Ma deve segnare anche a te mamma? No, ti fai male, poi con quello Skype ti fai malissimo, Valentina. No, su un'erba lo devi fare tu. Bravo! Mi hai fatto male? Non hai niente, non c'è niente. Per quello ti dico che lo devi fare su un'erba. Sei qua un'erba, babbo! E guarda dove lo fai prima, mamma. Tira su queste cazze, che almeno ti proteggono un po'. E vai lì, dove c'è l'erba morbida, dove non ci sono i sassi, non qui. Lì, dove c'è l'erba alta. Vai! Ma non lo è! Ok, qua c'è l'erba alta e non c'è niente con sasso. Puoi fare qua. No, no, tre! Si butta come un treno, si butta. E' troppo forte. Bravo, Valentina. Dai, continua ancora. Puoi fare anche stop. Mi chiameregono più le mie mani tutto il peso. Due passi, poi mi sconocchio. Non sono le mani. Ma tu non lo fare mai che ti scassi due. Non sono le mani, il peso che è aumentato. tanto. Eh, dico, le mie mani non mi tengono più il peso. Eh, ma non sono diventate le mani deboli. Il peso che è aumentato tanto. Mamma, vuoi vedere da dove? Sì. Fai, fai vedere. Vai. In, due, tre, go! Vai, salta, salta, salta! Oh! Mia, lei arrolla, non ti esprime. Beh. No, non si fa male. Adesso ti fa vedere il nono. Ti gira la testa. Eh, per forza, non devi farlo. No, no, no. Adesso ti fa vedere il nono come fa. Adesso ti fa vedere il nono come fa.